che è che manca? piccola di voi permette dai porca miseria solo per infilare quel bagaglio lì tre ore meno male che non si muove le soffocate chissà poi boh non lo so proviamo no non ci penso proprio adesso quando riusciamo a fare gli easter egg si può provare 21 come al solito eravamo dentro quel potuto iceberg che si è schiantato addosso alla nave allora chi è che lancia la prima scimmia? qualcosa di famiglia io no fate vero io siamo in tre con le scimmie eh lanci te per primo ok è una sorpresa dietro l'altra non uso il maggiore e quelli ancora da vendere un viagra il bastone perchè ce l'ho ancora a livello 1 io ce l'ho a livello 3 chi è che ce l'ho a livello 3 oltre a me a livello 3 io ce l'ho due solo io si si ah buh adesso quello è no no aspetta ci mescolano tutti gli zombie cose così quello è un fottutocchio gigante quando vedo la scimmia me la dite io la tiro ma non doveva tirarla avanti no lui prima lui e poi io ma sono sempre aperto a nuove esperienze vai tv vai dobbiamo capire come uccidere quel cosa non mi piace mi guarda in modo strano guardami bene occhio stai fissando la tua morte forza amico divertiamoci un po' con l'occhio gigante è finita mangio io è finita è finita è finita non mi piace mi piace è finita non mi piace è finita anche che ci ha fatto ma è finita poi è finita che ho parato il culo con il ciccio con lancia raggi? era andato via a porta a spara raggi comunque grazie ahia c'è il raggio dietro lancio scimmia ho una lancia tipo o una lanci tu lancio io dai ragazzi bisogna che prendo il carpentiere e ho bisogno di pieno carico vabbè lo prendiamo dopo la giocimia no 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 è finito prendo il pieno carico se la finite di te però me lo prendo no raga meno giù ma com'è possibile oh munizio nooo ho perso la ho perso la ho perso luna ho perso nulla c'è tiravo su subito ho perso luna ho perso luna mi sento più concentrata più micidiale che lancia la prima scimmia eeeh non so io se vuoi vai lancia lancia vai lancia lancia io arrivo io arrivo sto lanciando l'hai lanciata no ho detto che l'hai lanciato lanciato è letto arriva nel me la sto lanciando l'ho lanciato dai non c'è lancia non c'è lancia vai ti può lanciare un'altra arriva c'è tutto il ragno è moruto no la scimmietta diceva è sotto il ragno breve lancia scimmia arriva ragno davanti a me eeeh eeeh andata davanti a te scusate ho dovuto prenderli si 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 va bene c'è scimmia eeeh 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 chi ha altre scimmie nessuno io no lancia ne una lasciala lancia la lanta non mi fa usare il coso per battilo io battilo io scelata battilo io eeeh 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 ma eeeh eeeh è stato molto semplice gg si si gg sti numero uno ok io prendi sempre a pensieri a pensieri a pensieri a pensieri becchi servito o rave non lo so riserva per il crack e raggio scimmia qui sta diventando un po strettino e uno lancio scimmia ok stiamo a tendi se spavano di qua e di là tre due e lancia un'altra scimmia dai la tiro io e vabbè tre scimmie non è che siano così dato l'occhio fatto due ho bisogno di emmo quindi re lancio scimmia ho già tirato io bellissimissimo ma questi si va bene è l'ultimo è la grande cazzata attenzione qui chi è che lancia scimmia lancio io lancio io io ok ok ho capito è lanciata si fa e nasce la gente vai occhio all'occhio che parte fatto fatto per io chi lancia la prossima io l'ho già tirata lancio io l'ho già scimmia sono la più un'altra io anche sono quattro io l'ho già scimmia come fai ad avere le quattro scusa d'attimo perché c'ho l'armamento ah oh ma ecco l'ultimo occhio qui fatto fatto tiro un'altra scimmia e vai 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 tirata tirata vai fatto e vai prendi le munizioni prendi le munizioni e cazzo sparate ah bisogna ammazzarlo se no finisce ma che cazzata dai 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 ragazzi che mi sento che è la volta buona eccoci vai fammi cambiare l'orario bastardo adesso cosa dobbiamo fare eh adesso bisogna lancio scimmia vai walter stiamo tutti uniti ragazzi così almeno stiamo dentro il coso e uno andato ok lancio scimmia lancio scimmia lancio scimmia l'ho già tirato qualche eserci in due scimmie adesso dove andato dove andato dove andato dove andato fatto la prossima che la lancia io ok va la lancia vado addio occhio mincio a lacrimare inizio a lacrimare inizio a lacrimare inizio a lacrimare sparate sparate lancio un'altra scimmia io raga io non ho più scimmie raga basta basta non spararlo occhio solo quando lacrima non gli fa niente si prendile solo quando lacrima stiamo andando a bomba la gente è un'altra scimmia arriva vieni via vieni via l'occhio fatto lacrima 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 vieni bisogna bloccaggio un'altra volta io ho una scimmia lancio un'altra scimmia anche io lancio io l'occhio ci congela mi è diventato grosso però vai in giro mi è diventato grosso perciò vai lanciate un'altra scimmia per favore l'avanzo non ne ho più ho tirato io via 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 all'occhio all'occhio fatto dai lacrima l'ultima volta è andato il bastone in terra non ce l'ho attivato non ce l'ho attivato però un'altra scimmia tipo è un'altra scimmia un'altra scimmia ragazzi il nostro il nostro il nostro si 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 finalmente si 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 porca miseria si non ci credo maledetti sterega maledetti sterega lo sapevo che stasera veniva lo sapevo che veniva stasera porca miseria grande ragazzi abbiamo iniziato da schifo ma ce l'abbiamo fatta abbiamo finito da pro è un incubo che finisce questo è un incubo ragia che taglierà la testa dobbiamo fare con la riconosci questa porta ragazzi è loro da andar via secondo me poi fate voi porca miseria non ci posso credere è una data storica questa ok porca miseria la vera storia dei titanici insomma tu titanici deve affondare per forza tutto il sangue per terra e loro tipo se ne vanno così a casa non se ne accorgono che c'è il sangue in quattro una scialupa da 67 persone noi siamo di prima classe il quattro tre uomini una torna non ci posso credere ragazzi me lo sentivo che stasera era una volta buona e precisamente 63 dica se i nostri nemici sono la è stata dura però la donna badalu se lo avete qualcuno di città della testa copriamo gli a terra del bank io sono l'unico che è morto quattro volte complimenti a me grazie bene un saluto a tutti dal Rebe dal Tibu, da Walter e dal Becchi e con questa vi dico che è finita è finita finalmente ci siamo riusciti ci siamo riusciti perché siamo dei grandi ci abbiamo messo sei mesi dopo cinque mesi beh l'importante è esserci riusciti sì ma dopo cinque mesi eh vabbè ognuno ha i suoi tempi è uguale è uguale stai a guardare spero nel luogo eh quanta roba quanta roba quanta roba beati voi a te non vi ci chiede perché sei già arrivato a livello livello a livello un cazzo un cazzo un cazzo ok un livello ricompense un livello mi sembra un cazzo un cazzo eh nine si chiama nove nine eh però il prossimo non sarebbe nove eh ah no quali sarebbe eh eh no sì il prossimo visto lui come ti dice di andare a Delphi aah orca miseria ma chi è che lo sa qui di stare qui ma ne è un tifo cerchiamo cerchiamo qualcosa qualsiasa lo so amo noi basta che cerchiamo su youtube si beh l'altra volta non abbiamo trovato pochi niente vabbè comunque no no si si trova si trova ora tu basta che trovi z clan eh e vedi come te la vai va bene allora insomma lo troviamo qui e sarò io a tagliabile non si trova